Era la prima giornata per X e Y del campionato di Serie B con alterne fortune. Dopo tre mesi in cui è successo di tutto con la decisione del Consiglio di Stato, il campionato ritrova il Brescia, ripescato e il Lecco, di nuovo tra i cadetti, dopo 50 anni. La stagione della squadra di Gastaldello inizia come era finita, cioè contro la squadra affrontata nel play-out di giugno, il Cosenza. Questa volta però il gol di Biarnason porta tre punti in classifica in un rigamonti a porte chiuse. Comincia invece con una sconfitta il Lecco che lotta ma cede dopo una gara spettacolare contro un super Catanzaro al momento primo con il Parma. Al Como basta una rete di barba per superare lo Spezia, mentre finiscono in parità Cremonese-Samp con il VAR che toglie giustamente un rigore ai blucerchiati di Pirlo sull'1-1. Ternada Bari con gli uomini di Lucarelli che avrebbero meritato di più e Cittadella-Venezia tra le squadre che al momento giocano il miglior calcio in Serie B. Stecca il Parma in casa nel derby contro la Reggiana, continua il momento magico di Strizzolo a Modena, successo sul Pise, terzo gol in tre partite per l'attaccante dell'esordiente Paolo Bianco. Adesso la sosta ci si rivede nel weekend tra il 15 e il 18 settembre.